Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 16 novembre, inizia la settimana che ci porta al match contro il Napoli, inizia la settimana che ci porta a queste 10 partite in 31 giorni, un mese fondamentale, che il Milan purtroppo dovrà cominciare, almeno per la prima o seconda partita, speriamo che invece di accelerare, non so come, quando e perché, senza l'allenatore Stefano Pioli, ma ne abbiamo già parlato. Ieri ho toccato un tema, il tema di Cialanoglu, vorrei ancora ritornare non su Cialanoglu, se no vi annoierei, non su Donnarumma, ma un discorso più generale. Allora, siamo arrivati abbastanza in avanti per il rinnovi di Cialanoglu e Donnarumma, Donnarumma non se ne parla, o meglio ne parlano loro tra Casamina e Raiola, e speriamo che ci sia la happy end, anche se ogni tanto questo ottimismo buttato a piene mani cozza contro il realismo di Casamilan, che sa che la trattativa non sarà così agevole e facile. Però speriamo tutti nella happy end. Di Cialanoglu l'abbiamo già parlato, lì la situazione sembra più complicata, il Milan ha fatto la sua offerta, 3,5, sembra più bonus, che è il 40% in più di quello che prendeva, mentre il giocatore vorrebbe molto di più. Però questi scenari riguardo ai contratti mi portano a parlare più in generale della situazione. Perché? Perché volevo, per chi non lo sapesse, dire che nel giugno del 2022, che sembra lontano, ma per una trattativa non è lontano, il Milan ha 5 giocatori in scadezza. Praticamente tutta la difesa, perché c'è Romagnoli, ricordo l'ingaggio 3,5, Calabria, titolare, 2, Chier, titolare, mi sembra intorno all'1 e 2, Conti, prima riserva di Calabria sulla fascia destra, 2, anche lui come Calabria, e Chessi, centrocampista, altro titolare, quindi 4 titolari su 5, 2,2. Mi direte, ma giugno 2022 è lontano? No, perché se i dirigenti del Milan, figli di questa esperienza complicata, che porterebbe al rischio, non voglio dire di perdere a zero Donnarumma, non ne voglio neanche accennare, ma perdere magari a zero Cialanoglu, chiaro che devono incominciare a lavorare. Non dico nei prossimi giorni, non dico nelle settimane prima di Natale, ma appena finito il mercato a gennaio, febbraio, marzo, aprile, bisogna affrontare questo argomento. Perché? Se si aspetta ancora un anno prima, perché il giugno 2021 è un anno prima del 2022, così dice il calendario, il calendario, dopo diventa complicato e difficile. Quindi, per capire i margini, per capire le alternative, per capire le possibilità, per capire gli scenari, per capire, ripeto, le strategie, già a febbraio, marzo, aprile, i dirigenti del Milan, per questi cinque giocatori, devono già capire quali siano i margini di manovra, quali siano le possibilità di tenere questi giocatori, possono valutare se cederne qualcuno per questione di mercato, per questione di opportunità, per questione di scelta tecnica, per capire, poi, eventualmente, di andare a cercare, di andare a trovare delle valide alternative senza essere costretti, poi, quando ci si avvicina al gennaio 2022, di essere nella situazione, diciamo, complicata, odierna, che riguarda, appunto, sia Cialanoglu che Donnarumma. Ecco perché sono andato a vedere chi sarebbero i giocatori in scadenza proprio per capire, per capire, per vedere quali possano essere le strategie del Milan, anche perché sono giocatori, vedi, due sui cinque, cioè che sì e Romagnoli, indipendentemente dal buon Calabria e dal buon Conti e dall'eccellente Chier, però, vista l'età, l'ingaggio lì con Chier, non credo che ci si fosse la volontà del Milan di andare oltre il 2022, ci siano delle grandissime difficoltà, anche perché il Milan potrebbe andare a trovare un giocatore più giovane, insomma, è un leader della squadra, una soluzione si trova. Ma i due che certamente preoccupano sono Chessy e sono Romagnoli. Romagnoli tre e mezzo è già, se il giocatore volesse un aumento importante, già cozzerebbe con le diciamo le strategie economiche, con i budget, soprattutto per quello che riguarda il Montengaggio, studiato da Ivan Gazzitis e dai suoi collaboratori. che sì, io continuo a dire che è forse la priorità assoluta insieme a Romagnoli, proprio perché un giocatore a 2.2 di quella qualità in Inghilterra verrebbe catturato al volo, dandogli una cifra importante intorno ai 7, agli 8 e costringendo poi il Milan a diciamo così a equilibri per non perderlo o a sacrifici terribili per non perderlo. Quindi con Chessi e Romagnoli il Milan deve muoversi se avesse la volontà ovviamente di tenerlo, di tenerli subito come ho detto nella primavera prossima e di arrivare a un anno prima con un contratto che vada sempre che ci sia la volontà dei giocatori di rimanere che vada almeno fino al 24 per avere delle certezze e poi cederli ma con il coltello dalla parte del manico non con la costrizione di trovare delle soluzioni alternative per due giocatori che sinceramente non sono facilmente rimpiazzabili perché il difensore centrale che piaccia o non piaccia è di difficile reperibilità uno bravo di qualità di esperienza e che si oggi rappresenta uno dei valori assoluti di questo Milan quindi nessun invito ai dirigenti che sanno fare il loro mestiere è una riflessione con l'augurio che la primavera prossima possa portare a delle strategie precise a delle idee precise che potrebbe anche essere speriamo di non la vendita di uno di questi o di tutti questi non lo so deciderà la società insieme a Stefano Pioli ma devono esserci già come detto delle strategie precise delle filosofie precise quindi attenzione a Calabria Conti Romagnoli Chier e che sì se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti di Carlo Pelleggi